Il sindacalista della Femme Cacisle, Francesco Di Trocchio, è tornato ad accendere i riflettori sulla situazione degli ex lavoratori ITR, attirando l'attenzione delle istituzioni. Centinaia di persone che lavoravano nell'azienda Tessile di Pettoranello del Molise, ha detto, hanno chiuso lo step dei 5-7 mesi di ammortizzatori in deroga, un numero ancora più nutrito. Sta invece per usufruirne fino a primavera del 2018, dopodiché ha sottolineato con amarezza ci sarà il baratro sociale, il nulla. Un drammatico allarme, quello del sindacalista della Cisle. È assordante il silenzio della politica, scritto in una nota di Trocchio, concentrata sulla scelta dei candidati alle prossime elezioni piuttosto che sul tema lavoro degli ammortizzatori sociali esauriti per tanti o che stanno per esaurirsi. È stucchevole, ha continuato, come nessuno abbia la consapevolezza del dramma e dell'emergenza di questa situazione. Un dramma è un'emergenza non solo occupazionale, secondo il rappresentante della Femca Cisle, ma anche sociale. Tutti gli appelli rivolti fino a questo momento a chi è il compito di rappresentare questa regione, ha rimarcato, sono caduti nel vuoto o nella sterile frase. Stiamo lavorando di concerto per mettere in campo le iniziative che ruotano attorno all'area di crisi complessa. Nel frattempo, tante famiglie sono in condizioni drammatiche di assoluta emergenza nell'indifferenza generale. Riguardo ai lavoratori della OTI, il sindacalista ha sottolineato che per loro ancora nessuna soluzione è stata partorita. Non è dato sapere chi sia il datore di lavoro, non hanno uno stipendio, non beneficiano di nessuno strumento di tutela sociale. Se in altre zone d'Italia, ha concluso Francesco Di Trocchio, si parla di industria 4.0, in Molise siamo in attesa di vivere la prima rivoluzione industriale, un paragone che è una fotografia spietata della condizione che purtroppo attanaglia tanti, troppi lavoratori di più settori.